Ok Dunque, amici di All of Sirius 15 morti inaspettate, inattese, non volute Ma che faranno arricchire tantissimo tutte le prossime generazioni di psicanalisti che ci avranno in cura Ogni volta che proseguirò in questa classifica dirò prima di tutto il nome del telefilm Così già sapete di che cosa vado a parlare Solamente dopo dirò il nome del personaggio che è morto Se mi accorgo che può essere un mega spoiler gigantesco Metterò il video in bianco e nero Così potrete andare avanti col cursore e saltare ovviamente la parte che non volete sentire Ed essendo appunto 15 e non potendo fare un video di 25 minuti Andrò molto velocemente senza soffermarmi troppo Apro e chiudo parentesi, sono totalmente casuali Numero 15 Game of Thrones Ned Stark Giustiziare un uomo davanti alle figlie con la figlia piccola che corre Il tizio che la ferma e gli dice non guardare Gli viene tagliata la testa, si vedono gli uccelli che volano in cielo Cioè è decisamente peso Alla posizione numero 14 Oh sì, e qua non è assolutamente un grandissimo spoiler Si tratta della morte di Marissa Cooper Insomma uno degli eventi più tragici della mia vita Realizzato malissimo Ryan che la porta tra le braccia e forse il primo personaggio fragile che è morto veramente quando effettivamente voleva cambiare vita Mi devo ancora riprendere, sono passati anni Posizione numero 13 per Sons of Anarchy E non potevo non mettere il suicidio di Jackson Teller Grandi uscite di scena dei personaggi che appunto muoiono all'interno di una narrazione di un telefilm Il fatto poi che Teller scelga di suicidarsi sulla stessa strada su cui era morto suo padre Rende tutto molto più drammatico poi Tutto quello, le scene che ci sono prima, il cimitero Insomma sono momenti particolarmente forti Lasciamo perdere, andiamo avanti 12esima posizione Skins Il personaggio di Chris Più che altro partito come personaggio sgradevole Lo vediamo morire proprio nel momento in cui sembra che si stia per rialzare Sembra avere tutto, cioè è un po' come Marissa Nel senso questi personaggi un po' così Nel momento in cui sembrano tirare fuori il buono che c'è dentro di loro Undicesima posizione The Walking Dead E mi riferisco al personaggio di Glenn Per parlarvi della morte di questo personaggio E per tutte le altre morti di The Walking Dead Vi lascio giù nell'info box di questo video Il video di Alan Che ha fatto una classifica delle 10 morti più strazianti di The Walking Dead Decima posizione Lost E immagino che molti di voi abbiano già capito del personaggio di cui andrò a parlare Ovvero quello di Charlie Anche in questo caso abbiamo un personaggio che inizialmente è presentato come sgradevole Vediamo il suo arco di trasformazione personale Ci affezioniamo a lui Cioè la morte di Charlie è una morte di sacrificio Quindi siamo davanti a un esempio ottimale di narrazione di un personaggio Posizione numero 9 How I Met Your Mother Il personaggio di Tracy How I Met Your Mother ha diviso, deluso il mondo con l'ultima stagione Col fatto di chi fosse la madre Su come sono andati gli eventi Insomma c'è chi è il team Robin Chi è il team Tracy Diciamo che a me più che inaspettata che mi ha fatto piangere O comunque star male È soprattutto il fatto che non me l'aspettavo Posizione numero 8 per I-100 Io lo chiamo I-100 E vi voglio parlare del personaggio di Lex Morta per un colpo di pistola allo stomaco che aveva sparato Titus Insomma la scena della sua morte Di queste ultime sue frasi scambiate con Clark Sono decisamente drammatiche Ci sono rimasto decisamente male Posizione numero 7 per How To Get Away With Murder Quindi fermi tutti Se non avete visto la terza stagione Andate subito avanti Personaggio di Wes Tutto quello che concerne la morte di Wes Beh ci sono tantissimi dubbi Per già solamente il fatto che ci sia una grande confusione Fino alle ultime scene dell'ultimo episodio Nel cercare di capire chi lo abbia ucciso Ma poi per di più ho letto delle teorie sul fatto che Effettivamente Wes è morto o no Perché questa cosa della cremazione a molti non è andata giù Quindi insomma Posizione numero 6 Ben di Scrubs Scrubs è un telefilm Che ha saputo fare della demenzialità Il suo punto di forza Poi ti sparava questi momenti di drammaticità allucinante Quindi quando JD chiede a Perry Dove crede che siamo E c'è boom E poi c'è tutto Sono solo lacrime E lacrime E lacrime Posizione numero 5 Orange is the New Black Il personaggio di Poussey E se hai visto morire il personaggio di Poussey Nella mensa Cioè è stata una scena fatta da Dio Va bene Ovvio strizza l'occhio al Adesso devi piangere in eterno Però sì Cioè dai Quarto posto della classifica Desperate Housewife Quando si è visto morire il personaggio di Idy Britt Dai poi la puntata di commemorazione di Idy Britt È stata una delle migliori del telefilm Mi ricordo che quel pomeriggio Perché l'avevo vista di pomeriggio Sono stato Malissimo Malissimissimissimo Posizione numero 3 Per Breaking Bad Per Mike Non mi soffermo Più che altro Perché rischio davvero di piangere Anche perché io Breaking Bad L'ho finito recentemente E diciamo che Le emozioni sono ancora Fresche Ricordiamoci di Mike Alla posizione numero 2 Metto due personaggi Che sono morti all'interno di un telefilm Semplicemente perché sono morti I loro interpreti Quindi Richard Gilmore Di Una mamma per amica E Flynn di Glee Gli sceneggiatori di entrambi i telefilm Sono riusciti comunque A gestire questa cosa Dal punto di vista della narrazione Nella maniera più pulita Posizione numero 1 E con cui io mi preparo Altri fazzoletti Non potevo l'ommettere lui Beric Tipo cioè Non so se vedete gli occhi lucidi Ma Grace Anatomy per me È stato ed è ancora Una bibbia È stato lo spoiler degli spoiler Però non sei pronto Non sei mai pronto Bene Aggiungete voi qua sotto Tutte le morti Che vi hanno Più traumatizzato Tutto se sono spoiler Avvisate Nell'info box Trovate Tutti i link Per andare a vedere Il mondo di All of Sirius Iscrivetevi a questo canale Per non perdere i prossimi video Anche io Sono All of Sirius Anche se adesso Ho voglia solamente di piangere Ci vediamo appunto Ai prossimi video Ciao